Il giornalista deve fare anche lui il suo mestiere, deve farlo. Allora io posso dire che rimetto alla coscienza del giornalista scegliere con però deontologia professionale, è importante aumentare le vendite o è importante che l'opinione pubblica venga a conoscenza delle cose essenziali. Io mi sono sentito dire da il mio professore di inglese col quale cerco di mantenere una certa fluidità della lingua che lui non ci riconosce come uno stato di diritto, perché lui viene da un paese nel quale i processi si fanno in aula, non si fanno in televisione.